Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Molise TV. Oggi mercoledì 24 apriamo la nostra rassegna stampa leggendo i titoli del quotidiano online Tutto Molise. Deficit delle regioni, Molise al quarto posto. E poi i segni a tassi ai massimi storici. Infine unione degli studenti a piazzetta Palompo a Campobasso e il mercatino del Librousato. Passiamo ora alle notizie del quotidiano del Molise. Che apre con nuova sanità, tagliati quattro distretti. Ne restano tre. Inizia la razionalizzazione annunciata dal commissario governatore Frattura. L'atto della regione prevede anche la riconversione definitiva del Vietri e del Santissimo Rosario in ospedali di comunità. Sempre in dettaglio centrale, migranti, revocata l'agibilità del centro. Discordanza nell'esecuzione dei lavori a Forlì del Sagno. E poi beccata quarantenne che affittava case fantasma. Aveva adescato una trentenne di Forosolone, a Isernia. E poi intercettato in A14 con un mezzo rubato, caccia al ladro scappato nelle campagne di Montenero di Bisaccia. Sempre nel taglio centrale, maltempo, in 60 bloccati alle isole Tremiti. Vacanza da incubo a causa del forte vento. E passiamo ora al taglio alto. Centro-sinistra sarebbe meglio presentare una sola lista. Si voterà il 31 agosto per il rinnovo di Palazzo Magno. Provinciali, la vecchia lancia l'appello. Sempre nel taglio alto, la Fiat riaccende i motori. Assunti 24 giovani. Confermato il trend positivo a Termoli. E poi edilizia, CGL, Cisle e Will. In Molise la situazione non migliora. I sindacati lanciano l'appello alle istituzioni. Infine, Caracciolo, 130 posti di lavoro a rischio. Ora nel taglio basso, Battista, sentenza in attesa. Faremo le dovute analisi. Il commento del sindaco Battista. E poi Scuole non aprirà l'edificio di via Berlinguel. Poi, andando avanti, i rivenuti reperti nel poro Fiera. Si continua a scavare. Si tratta di resti divasi dal valore poco rilevante all'Arino. E infine, notizie di sport agnonese. Colpo in attacco arriva di Federico in serie D. E poi, sempre Sport, Novelli prepara l'esordio e attende rinforzi dalla società. Infine, Isernia, 5 acquisti per mister Fabio di Rienzo in eccellenza. Queste erano le notizie del quotidiano del Molise. Passiamo a quelle di primo piano Molise. Galletti, Bacchetta e Molise. Sulla differenziata è indietro. Il ministro non fa sconti e sull'impianto di Pozzilli azzerra le polemiche. Con l'incenitore non si corrono più pericoli che con le discariche. Intervista di primo piano al titolare dell'ambiente. La prevenzione resta l'unica arma per i dissesti. E poi, nel taglio alto, Frattura taglia anche i distretti sanitari che da 7 passano a 3. Nuovo atto di riordino del commissario che riduce i distretti in regione. Sempre nel taglio alto, Zuccherificio rispunta l'ipotesi termovalorizzatore. Al vaio, un progetto di riconversione. Intanto si attende via libera per la micro campagna. E infine nel taglio alto, Notte Bianca, la trafumata nera. L'evento diventa un caso. Stavolta la bocciatura è arrivata perché la documentazione era incompleta. Dopo il secondo stop, la manifestazione rischia ora di diventare un caso. E passiamo nel taglio basso. Nell'edilizia non c'è ripresa, allarmante la situazione occupazionale. I sindacati fanno la voce grossa. Sempre il taglio basso, inquinamento, cantone a fondasorbo. Quando era l'opposizione aveva tutte le soluzioni. Duro attacco al sindaco dal capogruppo di minoranza. Al comune, dal 2013, fa solo chiacchiere. La scuola di via Bellingwell non è pronta. Continua l'odissera per gli alunni dell'Ascarano. Il Movimento 5 Stelle accusa l'amministrazione Battista, obiettivo miseramente fallito. Notizia di sport, Agnone, nuovo rinforzo. Arriva Ivan Di Federico. Il campo basso resta invece fermo sul mercato, in serie D. Eccellenza Isernia, ufficiali. Sei innesti per il team di Fabio Di Rienzo. Infine, pallavolo, sorrisi, ambizioni e tanto entusiasmo alla presentazione dell'Europea 92. Andiamo avanti e proseguiamo leggendo le notizie dell'Agenzia Stampa Molise. Debiti record per il governo Frattura, al quarto posto nella classifica nazionale. E poi, distretti sanitari tagli da sette a tre. Proseguendo a campo basso è attivo lo sportello etico per le anomalie bancarie e finanziarie. Infine, affittava case vacanza fantasma tuffatrice incastrata dai carabinieri. Proseguiamo ora leggendo le notizie delle testate nazionali a partire dalla Repubblica. che apre con il patto con la Merkel di Renzi e Hollande. 10 miliardi di flessibilità. Apertura in cambio di riforme nell'intesa di Ventotene. Negoziato con i ministri ECOFIN, JANGER e Italia. E poi nel taglio alto, Guccini, torno tre giorni sul palco, ma a cantare non ci penso più. Sembra nel taglio alto, travolti in casa, 3-0 con il porto giallorossi fuori dalla Champions. Nel taglio laterale invece, la confessione di Ratzinger, troppo stanco, così ho lasciato l'intervista. E passiamo al taglio basso, 13 roghi in 24 ore, incendi che assediano Roma. E poi, proseguendo, c'era una volta la spiaggia, ecco la mappa dell'erosione. Sembra nel taglio basso, nella Turchia del nuovo sultano, sull'orlo della crisi con l'impero. E infine, selfie e piadina con il capitano Kirk, come ti finanzio la festa dell'unità. Bene, andiamo avanti, leggendo le notizie del fatto quotidiano. Grazie al governo, i banchieri Scandalo possono tornare a abolire il contatore per salvare l'economia e le banche centrali. Il tesoro da un anno blocca il decreto che recepisce la direttiva Unione Europea. E nel taglio alto, invece, alla festa dell'unità di Bologna, il PD voleva l'ampi muta sul no ai referendum. Poi hanno dovuto cambiare idea. I partigiani insegnano ancora democrazia. E nel taglio basso, da Ventotene, parte un siluro e affonda i contratti di lavoro. Addio a quello nazionale per ottenere un po' di deficit in più nel 2017. Sempre nel taglio basso, scuola a centinaia di chilometri da casa, con figli e mariti malati. Sempre nel taglio basso, furibondi con premier i giornalisti stranieri, sequestrati fino alle tre. Imbarca dopo lo show. E infine, Virginia Raffaele alla festa del fatto. Non sarò sola, c'è la Boschi con me. Lo show alla Versiliana. Queste erano le notizie del Fatto Quotidiano. Proseguiamo con quelle del Quotidiano Libero. Chi apre con chi attacca Parisi è un pirla. Per invidia o per paura di essere fatti fuori, i dirigenti azzurri fanno a gara per osteggiare l'uomo scelto dal capo, allo scopo di rilanciare il partito. Ci auguriamo che Stefano tenga duro, perché se lo ammazzano poi il funerale sarà collettivo. Maretta in Forza Italia. Siamo nel taglio centrale. Più burchini per tutte. La carnevalata continua. Follia. Lo comprano anche gli occidentali. E poi nel taglio laterale, invece, la Brexit è stata una manna per le imprese. Lo studio europeo. Siamo nel taglio laterale. Vola il partito anti-euro della Germania. Ormai è il 15%. Nel taglio basso, invece, il governo scomunica l'università islamica. Invocata allo sterminio degli ebrei. Sembra il taglio basso. La piccola non è mai stata rapita. Ecco la vera storia. L'indiano, i genitori, il PM. Cos'è successo sulla spiaggia di Vittoria? Proseguiamo e leggiamo le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno. L'Unione Europea promuove ventotene. Campagna d'autunno. Renzi scommette sui giovani e crescita. Giustizia. Legnini. Basta con i processi mediatici ai magistrati. E nel taglio alto, invece, campionaria numero 80. Giallo sull'arrivo di Renzi. Manca ancora la comunicazione ufficiale. Sembra il taglio alto. Interporto. Lavori fermi. La finanza in regione. Indagine sulla fidelezione falsa da 9 milioni. Nel taglio laterale, invece, i guadagni della droga riciclati con il calcetto. Andrea, altri fratelli Roberto, sequestrati due campi, appartamenti e conti correnti. Passiamo nel taglio basso. Scuola a sud ancora sottotiro. Dopo i cento e lode, bufera sul promossi al concorsone. Sembra il taglio basso. Conto nazionale, ventura a Bari per sfatare il tabù Francia. Calcio in Italia imbattuta dal 1952. Bene, passiamo ora alle notizie del quotidiano avvenire. La via del dialogo. Parolin. Solo con l'accoglienza si costruisce pace. Non c'è guerra di religione. L'ONU intervenga. Fede e cultura da Ratzinger doni alla Chiesa. Parla il segretario di Stato Vaticano. Con la Cina prosegue il dialogo. Giovanni Paolo I, pastore esemplare. Spero presto. Beato. Passiamo nel taglio alto. Gli incendi toccano anche Roma. Paura ed evacuazioni. L'allarme. Sempre nel taglio alto due fratelli kamikaze. Uno si fa saltare guidato dal padre. Orrore in Iraq. Proseguendo. Io dalle gang alla preghiera. L'esperienza. E infine nel taglio alto. La fede è una lotta continua. Bracciaroli. Nel taglio laterale, invece, Pokémon Go. Gioco da cacciatori di insombi alienati. E poi, se ne taglio laterale, quei scudi umani che usa il Dash. Una foto scomoda. La storia che ritorna. Passiamo nel taglio basso. Spinta di Renzi e Merkel. Ma ora l'Unione Europea avanza a 27. Sui giovani, prime iniziative. Profughi e ritei verso Bellino. Bruxelles agire insieme. E infine in fuga nascosti sotto un tir. Odissea di due emigranti afghani. A Terni e Frosinone. Bene, ora apriamo la pagina sportiva. Con il Corriere dello Sport. Roma e Spalletti. Che disastro. I giallorossi umiliati dal porto. Zero a tre. Fuori dalla Champions. De Rossi e Emerson Palmieri perdono la testa e si fanno espellere. Poi il tracollo. Passiamo nel taglio alto. Juve e Matuidi. Incontro e il Napoli. Pensa a Zaza. Stretta bianconera sul francese. Gabbiadini verso Leverton. E nel taglio basso invece. Inter. I cinesi a Milano con il regalo Gabigol. Partito l'assalto finale al brasiliano. Venerdì sbarcano i vertici Suning. Sembra il taglio basso. Aquilani e del Pescara. Palermo c'è Diamanti. Anche Bruno e Rick per Zambarini. Rinforzi di qualità per Quadrato Ballardini. Sembra il taglio basso. Infine scandalo Russia. Niente Paralimpiadi. Ira di Mosca colpiti i disabili. Confermata l'esclusione per Rio. Proseguiamo leggendo le notizie di Sport con la Gazzetta dello Sport. Chiaprecon la Roma si elimina da sola fuori dalla Champions. E nel taglio alto invece. Sette colpi in otto giorni. Inter e Juve. Gio Mario e Quadrato. Napoli su Zaza. Balo su gestione. Sembra il taglio alto. Speciale mercato. L'ultima settimana di trattative. Può portare altri affari. Nero azzurri e bianconeri. Si contendono Gabigol. Dell'Aurendis Punta Magalà. Potrebbe essere centrocampista del Milan. Passiamo nel taglio laterale. Romagnoli e gli altri. Milan. Loro da difendere. Proseguendo la medicina di Debor. Intensità e Palla Hard. Infine Ventura. Prima novità. Ecco la cantera italiana. Bene. Il nostro appuntamento finisce qui. Vi ringrazio per averci seguito. Vi lascio al medio. Arrivederci. Il meteo è offerto da Signora, dico a lei. Acconseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per mercoledì 24 agosto. Il vortice di bassa pressione scivola ulteriormente verso i Balcani, rinnovando tempo a tratti ancora instabili tra medio-bassa Puglia e Basilicata, tra mattino e primo pomeriggio, ma con tendenza a miglioramento dalla serata. Variabile anche sui restanti settori, ma con tendenza a ampi rasserenamenti entro fine giornata. Temperature in rialzo nei valori massimi. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 16, massima 24 gradi. Isernia, temperature comprese tra i 19 e i 25 gradi. Termo di minima 24, massima 25 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. Acconsegni, assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Spendi e risparmi di Molise TV.